Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, il nostro speciale di Good Morning Milano, dove si parla su appunto di periferie, le periferie di Milano insieme a Walter Cherubini e la consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno e ben ritrovati a questo 174esimo appuntamento. 174esimo appuntamento a parlare di periferie e ogni volta abbiamo cose interessanti da raccontare e da dire. Tra l'avvento oggi è stato un ospite importantissimo, quasi storico. Sì, perché lo facciamo tramite chi opera sul territorio periferico, perché altrimenti ce la stiamo a raccontare. Invece così, incontrando un po' chi opera, ci rendiamo conto anche della realtà che c'è. Cosa succede nella periferia? Oggi abbiamo Francesco Ferrario della Croce Verde Baggio, legato al tema del centenario degli antichi comuni milanesi che c'è stato nel 2023, ma che è l'occasione proprio per cogliere quelle che sono le realtà presenti e che hanno avuto anche una dinamica storica e ci aiutano anche a capire qual è l'evoluzione attraverso il proprio vissuto di quello che è stato Milano e quella che è la grande parte di Milano, l'80% del territorio, che è quello che è diventato periferia proprio con l'aggregazione degli antichi comuni del 1923. Quindi Francesco Ferrario, Croce Verde Baggio, 1911. Infatti guardavo sulla sua divisa, Francesco. La Croce Verde, 1911. Sì, non è la sua tradizione, no, 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 no. È la Croce Verde Baggio, 1911, quindi ben prima di quel 1923 di cui abbiamo raccontato durante tutto lo scorso anno. Realtà però che appunto è storicamente a Baggio e che fa parte della storia di Baggio. Anzi, Baggio senza la Croce Verde non sarebbe Baggio e la Croce Verde senza Baggio non sarebbe la Croce Verde Baggio. E anche noi saremmo un po' meno, perché se non ci fosse la Croce Verde di Baggio come anche altre realtà che ci soccorrono e ci aiutano, arriveremo un po' più tardi. Quindi appunto diciamo una storia legatissima a quella di Baggio e la Croce Verde che nasce nel 1911 ma c'è tanto altro. Sì, dunque la Croce Verde Baggio nasce nel 1911 appunto nel quartiere di Baggio in seguito alla morte di un signore per il quale non era stata possibile provvedere ad un soccorso. La parente di questo signore, tal signora Galanti, che è scritto poi nel libro, ha poi avviato questa procedura e ha fondato la Croce Verde Baggio che è nata nell'allora comune di Baggio nel 1911. Allora era nata in una palazzina accanto alla sede attuale dove adesso è stata costruita la sede dell'anagrafe comunale. Nel 1921, dopo la conflaggregazione degli 11 comuni della prima periferica di Milano al comune di Milano, la sede del comune di Baggio, che era proprio in piazza, che oggi è intitolata Cedere Stovani, che è stato l'ultimo sindaco di Baggio, è stata poi data concessa in uso alla Croce Verde e dal 1911 è la sede della Croce Verde. Vi faccio un po' una verissima storia della Croce Verde. Durante la guerra, durante il fascismo, poi tutte le attività di soccorso nel Belone e il Mane sono state concentrate sulla Croce Rossa, che ha accorpato quasi tutte le associazioni della città di Milano. Finita la guerra, poi le code sono tornate nella normalità, sono stati fatti alcuni tentativi di riorganizzazione del soccorso sanitario e nel 1960 è stato fatto un primo tentativo di riorganizzazione dei soccorsi nella città di Milano, dividendo la città in quattro zone, presidiate ciascuna da una o più associazioni, che avrebbero dovuto essere coordinate da un centralino dei vigili urbani. In realtà questo centralino, il famoso 7733, è nato nei primi anni 70, quindi con un po' di ritardo, e ha cominciato a coordinare, riceveva solo le chiamate dai cittadini e le distribuiva alle varie associazioni. Nel 1900, nei primi anni 90, è nato il 118, esattamente con un decreto legge dell'allora ministro De Lorenzo, è stato costituito nel 92 il 118, che è nato prima sperimentalmente a Udine, a Bologna, e poi è stato estero a tutta Italia, pian piano, ovviamente con le solite iniziative a macchia di lopardo. Lo vediamo ancora adesso con il 112, che non è ancora su tutto il territorio nazionale ancora. Esatto, abbiamo pagato anche tante comitazioni a tante penali. Infatti, quindi insomma, vedo che non è cambiato nulla. Dal 118 al 112 cambia il numero, ma le modalità rimane quelle. E invece nel 2008, il 118 quindi ha cominciato a coordinare l'attività dando un po' di regole e nel 2008 è nata REU, che è l'azienda regionale emergenza e urgenza, che gestisce oggi tutta l'attività del soccorso sanitario in Lombardia, gestisce il centro di coordinamento di compensazione nelle sangue, il trasporto organi e il centrino del 112. Ecco, il 112, perché ricordiamo appunto questo adesso, una cosa che so che voi citite tanto, so che anzi una delle vostre missioni è quella di portare in giro il 112, nel senso che noi siamo abituati al 118 per l'ambulanza, 115 per i vigili del fuoco, 113 per la polizia, in realtà adesso esiste il 112, l'ex numero dei carabinieri, forse infatti potevano inventarsi un numero diverso, così almeno magari qualcuno continuava a legarlo a quello, però sa di fatto che c'è, è un numero fondamentale perché è il numero che serve per qualsiasi, qualsiasi emergenza, poi sarà il bravissimo operatore del 112 a smistare la chiamata in tempi brevissimi, io sono stato anche al centro del 112 che è un quartiere di guarda qua a Milano, una sala operativa davvero all'avanguardia, voi chiamate, sanno già praticamente da dove chiamate, se avete un'utenza telefonica che ha registrato il vostro nome sanno chi siete, se usate l'app ancora meglio, so che alcuni dei volontari sono passati di qua nei giorni scorsi, hanno anzi detto usate l'app, scaricate l'app del 112, quindi ci tenevo anche io a dare questo piccolo contributo, app del 112, chiamate il 112. Walter, per te è stato fondamentale invitare qui Francesco perché appunto quella del Coceverde Maggio dà l'idea di cosa significhi davvero la storia che nasce nelle periferie e che continua nelle periferie? Ma direi che c'è la sottolineatura di una responsabilità delle persone e una responsabilità delle persone che poi diventa anche servizio a tutta quanta la comunità, una comunità che deve però riconoscere queste realtà, altrimenti diamo un po' tutto per scontato, c'è c'è qualcuno che deve fare, ma chi è questo che deve fare? Invece ciascuno poi ha vari livelli di responsabilità nella città che ciascuno potrà mano a mano acquisire o anche essere riconosciuto e quindi anche delegato perché anche una Croceverde viene eletto un presidente e quindi ci sono i soci che danno mandato perché ritengono che una persona possa svolgere un certo tipo di compito per una determinata periodo di tempo. Ecco, questo qui è il concetto fondamentale. Quando parliamo di cittadinanza attiva non è una cosa strata, ma se noi la vediamo proprio calata concretamente nelle realtà, possiamo anche aiutare questo tipo di realtà, perché poi ciascuno ha sensibilità proprio assistenziale, sportiva e quant'altro, ma pensiamo al dinamismo sociale che c'è. Sul sito periferiemilano.com abbiamo declinato su alcuni lavori specifici, abbiamo cercato di fotografare un po' completamente quella specifica realtà, quindi abbiamo mille indicatori. Ecco, questo dà l'idea per ciascuna zona di Milano, in particolare le otto zone diciamo così periferiche, noi possiamo incontrare dai centri culturali, realtà sportive, teatrali e quant'altro, parecchie evidenze e quindi possiamo anche direttamente conoscerlo tra virgolette con un clic. Non c'è la Croceverde e Baggio, credo, perché non è un lavoro che abbiamo fatto con le Croce. Prossima idea potrebbe essere. Potrebbe essere, ma esattamente con il convegno che abbiamo fatto del centenario sociale il 21 febbraio scorso. E infatti vuol dire di questo? Loro erano lì, di diritto. Certamente protagonisti, ma ridiventeranno protagonisti anche il prossimo 19 marzo al Municipio 7, perché la logica è stata proprio riconoscendo questo territorio, teniamo conto che il centenario del 21 febbraio è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e dal Tavolo Periferie Milano. Quindi una realtà diciamo così associativa, che lavora normalmente con l'istituzione e quindi anche riportare questo metodo di contatto di lavoro anche sul territorio con il Municipio, per cui erano presenti tutti i presidenti o loro delegati dei Municipi, che hanno potuto incontrare e in questo caso anche diciamo così premiare, ma riconoscere queste presenze. Appunto le presenze del Municipio 7 verranno ririconosciute anche a livello territoriale, proprio per instaurare un dialogo più proficuo e stringente. Per capire l'importanza che ha la Croce Verde del Maggio non solo sul territorio del Municipio 7, ma in tutta la città. Dacci qualche numero. Voi avete dei professionisti, ma anche tantissimi volontari che operano. Noi siamo un'associazione fatta da circa 220 volontari e 16 dipendenti. Operiamo sulla città di Milano, che le nostre attività sono sostanzialmente, ovviamente per la maggior parte, trasporto sanitario in emergenza e urgenza, in convenzione con Areu. Facciamo trasporto di pazienti per fare visite mediche, accompagnarli a queste strutture, persone che hanno difficoltà di ambulare. Facciamo un servizio di spesa a domicilio per le persone che ancora una volta non riescono a muoversi. Andiamo a fare la spesa, gliela consegniamo a casa. Abbiamo un nucleo di protezione civile all'interno dell'associazione e facciamo molta formazione. Al di là ovviamente della formazione obbligatoria rivolta all'interno, facciamo formazione per i cittadini sulla tecnica di primo soccorso, di distruzione delle vie aeree, BLSD, quindi l'abilitazione all'uso del defervillatore. Di queste attività ne facciamo parecchie, facciamo circa... Noi abbiamo tre ambulanze tutti i giorni, operative, 365 giorni all'anno e sono coperte dall'undi al venerdì ovviamente dai dipendenti, mentre le sere, le notti, i sabati e le domeniche... Durante il giorno, certo, mentre le sere, le notti, i sabati e le domeniche sono coperti per la gran parte da volontari. Questa è un po' la dimensione. Che cosa facciamo? Facciamo circa 9.000 servizi all'anno di trasporti in emergenza e urgenza con queste tre convenzioni, sono circa 800 trasporti sanitari semplici appunto di accompagnamento di pazienti a visite mediche, altrettante 600 spese a domicilio e poi varie attività, appunto, ripeto, protezione civile. Noi abbiamo solo persone che operano nella protezione civile, che vengono attivate dalla protezione civile provinciale o regionale a seconda delle necessità. Queste un po' sono le dimensioni. Il numero di volontari è impressionante. Ma mancano sempre. Eh, però stiamo un po' arrivando lì. Ma non è mai abbastanza, giusto? Perché serve, serve, serve dare una mano. Diciamo che negli ultimi anni è un po' cambiato lo spirito del... Ah, facci, no, non ti dico cosa ci ha detto il tuo collega della Croce Verde Sempione, vediamo se arriviamo allo stesso punto. Dai, dici, perché è cambiato? È cambiato perché è cambiato un po', io non so come dire, ma è cambiato un po' l'atteggiamento nel confronto del volontariato. Una volta era un po' visto, se posso dire, un po' come una missione. Io ho cominciato a fare volontariato negli anni settanta, facevo volontariato in Croce Rossa allora, ed era diverso comunque. Oggi i volontari ci sono, ma c'è una minor disponibilità, tant'è che noi abbiamo spesso parecchie difficoltà a coprire i turni e siamo obbligati a coprirli. E dobbiamo, in mancanze volontari, fare le coperie dipendenti ricorrendo a turnazioni extra, straordinarie, costi extra comunque. I costi sono un grosso problema per noi perché non avendo fonti di sostentamento al di là di quello che ci arriva e non basta neanche per coprire il 118 dalla regione, i problemi ci sono sempre comunque in queste associazioni. Come si fa a diventare volontario? Cosa si può fare? Chi può diventare volontario? Si può diventare volontario oggi dopo la riforma del terzo settore a partire dal diciassettesimo anno. Naturalmente non si può uscire l'ambulanza fino al 18 anni compiuti, però nel frattempo si possono fare attività. Quindi dai 17 anni in su tutti possono diventare volontari e svolgere attività. Noi abbiamo grossomodo portato anche a dei dati, addirittura il 70% è compreso tra i 30 e 70 anni dei nostri volontari. Ce ne sono alcuni, una quindicina sopra i 70 anni che sono utili anche quelli perché comunque sono quelli che ci permettono appunto di fare questi servizi trasporti di pazienti alle visite mediche perché naturalmente quale sono nei giorni feriali di giorno comunque. E 16 dipendenti che lavorano sulle convenzioni col 118 sostanzialmente. Una volta diventati iscritti si fa un corso che dura 120 ore, dopodiché si può uscire l'ambulanza. Formalmente dopo il corso uno può fare tutto per quanto riguarda la regione. Però poi ci sono dei percorsi di affiancamento per rafforzare le competenze di ciascuno e poi uno pian piano da soccorritore diventa caposervizio, autista e via di seguito. Insomma è interessante vedere come appunto 200 cittadini si impegnano in questa missione come l'ha chiamata Francesco, però servirebbe tanta altra gente. E giustamente detto attenzione perché appunto fare volontariato è un po' cambiato lo spirito. Ma forse non è solo lo spirito. L'un per l'altro, così facendo qualche valutazione percentuale, l'attività della Croce Verde Bagio è sostenuta all'incirca dal 50% dal volontariato. Questo qui su per giù. Sì, di più del 50%. Per difetto. Questo dà l'idea a tutti quanti noi, quelli che stanno ascoltando e anche quelli che non stanno ascoltando e che sono inconsapevoli alcune volte, di com'è importante che ci sia questo impegno da parte delle persone. E siccome il soccorso è una cosa che riguarda tutti quanti perché non è la collezione di francoboli, tra virgolette, e quindi è importante che stiamo... Diciamo sempre che non è l'associazione amici degli scacchi, salutiamoci, piacciono gli scacchi, ma è un po' diverso. Ma va benissimo, ho vinto anche un torneo di scacchi in gioventù, eccetera, ma per carità. Allora, far conoscere questo tipo di realtà è interessante adesso, Francesco ha portato anche un libro che parla della Croce Verde. Che è la storia della Croce Verde. Ma è interessante anche il titolo... Nel nome della solidarietà. No, esattamente, perché non è la storia della Croce Verde, ma è nel nome della solidarietà. Nel nome dell'emergenza, nel nome del soccorso, nel nome della solidarietà. Dà proprio l'idea come una comunità che era quella del comune di Baggio di allora, per un fatto magari specifico, però riconosciuta un'esigenza, come diceva un educatore importantissimo di Milano, se è un'amicizia è vera, si struttura. E quindi, nel momento in cui noi riconosciamo un bisogno, la comunità si va a strutturare da cento e passi anni a questa parte. Perché non credo sia un caso che due ospiti due settimane sono due Croce Verde, tutte e due nate ai bordi della città. Cioè, nel senso, ovviamente, non è un caso, no? Mi permetto un attimo di precisare. Non ai bordi della città. Nel comune. Questo qui è importante, dove una comunità si struttura in base alle esigenze che mano Io però credo che all'epoca, forse, l'ospedale più vicino fosse, non so, forse in centro Milano. Non c'era. Non c'era. Se credo che l'ospedale più vicino, nel 1911, sarà stato l'ospedale maggiore. Policlinico. Policlinico. Ma l'altro aspetto ancora è proprio che questa realtà... Sono un festa del perdono ancora, forse. Forse ancora. Forse era l'infesta del perdono. Dividi che il maggio era lontano. Il posto dell'università, va bene, sì. Allora si avaggiava con le ambulanze, con i carri trenati dai cavalli. Perché tanto l'università è appunto 1924, iniziata nel 1923. Allora, vedi, ci siamo. È centenario di risposta. Abbiamo detto una cosa. È centenario di università di studi di Milano. Quindi, tanto per chiudere il tema, conoscere la realtà territoriale, anche quella che non è del proprio quartiere. Perché siccome noi siamo nella città di Milano, dobbiamo avere perlomeno una visione milanese. Allora, è importante conoscere questa realtà e anche la storia. Quindi noi abbiamo anche suggerito di utilizzare questi libri, proprio come presentazione normale. Fare delle iniziative strutturate, ma ne parleremo magari proprio il 19 per il municipio 7. Guarda, dicevi Francesco... No, è una cosa velocissima. Anche perché aggiungo una cosa, perché per sfatare alcuni luoghi comuni che circolano, perché non è del tipo, non so come fare, anche per invogliare chi ci ascolta a diventare volontario. Tanti mi dicono, non so come fate a fare quel lavoro con tutte quelle cose che vedete. In realtà, cose se ne vedono, però sono molto rare le cose brutte. Ho detto, le scene da dare agito sono molto poche. Quello che mi ha colpito, in particolare entrando a fare questa attività, non sono queste cose. Perché se lo fai, è chiaro che te l'aspetti. Ma il disagio sociale che c'è in una città come Milano. Anziani abbandonati, persone che non sanno a chi rivolgersi. Ma tanto, tanto disagio sociale c'è e abbiamo difficoltà a metterci in contatto, soprattutto in una città come Milano, con qualcuno che possa dare un supporto utile a queste persone. Anziani che vedi questo scenario sta peggiorando? Abbastanza, sì. Perché man mano che comunque l'età media avanza, è chiaro che queste situazioni peggiorano. E la situazione è molto più pesante su Milano rispetto ai comuni della provincia. Perché nei comuni della provincia, bene o male, se hai bisogno di un aiuto, sai a chi rivolgetti al comune. Che poi magari non risolve il problema, ma quantomeno tenta di affrontarlo. A Milano non sappiamo proprio chi dirottare. Diciamo che forse anche nei comuni o nei paesi più piccoli, o quello che si spera possa rinascere nei quartieri, siamo in un senso di comunità, che quindi vada a sopperire magari a certe mancanze e aiuti in prima istanza. Io ho fatto per tanti anni il volontario anche in un comune della provincia di Como, fino a Mornasco. Mentre lo facevo anche a Baggio. Ah beh, giusto, per non farsi mancare niente. Come? Per non farsi mancare niente. Esatto. E comunque lì era più facile, perché quando c'erano dei problemi, chiaramente avevamo i contatti dei comuni, era più facile mettersi in contatto il comune, che ripeto, magari non risolveva il problema, però cercava di trattarlo. Chiarissimo. Ma direi che c'è proprio questo tipo di situazione organizzativa che può facilitare o meno. Per quello noi partiamo da cento anni fa con l'eliminazione del riferimento, come c'era il comune di Fino Mornasco, c'era il comune di Baggio. Assolutamente, Fino Mornasco come struttura è rimasta di riferimento. A Milano si è persa e quindi noi abbiamo tutto concentrato centrocentricamente e questo qui porta a tutta una serie di ricadute che se Milano, grazie alle scelte del 1923, quindi anche di allargare Milano, ha sicuramente, se è la Milano di oggi attrattiva e quant'altro, ha tutti degli elementi positivi. Non dobbiamo però dimenticare, dobbiamo risolvere questi elementi strutturali dell'organizzazione comunale che non è organizzata territorialmente. È organizzata come era più di cento anni fa e quindi con il suo comune, il centro a Milano, mentre noi abbiamo tantissimi servizi disseminati sul territorio ma che non riescono a essere messi insieme. Il municipio ha esattamente questo ruolo che deve però svolgere e questo sarà l'impegno di questo 2024 perché altrimenti diciamo... Primi comuni, oggi i municipi. No, ce la stiamo un po' a raccontare, dopodiché come dice Francesco abbiamo questi disallineamenti che sono importanti perché poi impattano sulla vita delle persone. Bisogna andare fino a Fino Mornasco, anche già pensiamo a un Cesano Boscone, a un settimo milanese che gestiscono tutto in tranquilla autonomia, a differenza. Anche Fino Mornasco ci piace. Facciamo un giro per sul lago volendolo, possiamo fare quelle parti là, si va verso il lago. Siamo in conclusione, chiudi Walter, siamo in conclusione. Ecco, solamente un flash che poi riprenderemo, riprendono con il 15-17 marzo le giornate periferia Artmi, antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, proprio per far conoscere il territorio soprattutto della periferia che è articolato in 166 toponimi diversi e quindi è importante anche conoscere l'ABC della città. Quando parliamo di Assiano, Basmetto, Cavriano e così via, le persone non sanno di che cosa stai parlando. Ecco, stiamo esattamente parlando della nostra città che non è conosciuta e deve essere conosciuta. Quindi rimandiamo al 15-17 perché è venerdì, sabato e domenica dove avremo i primi, credo, le prime decine di appuntamenti ma vedremo successivamente le comunicazioni. Siete in giro per i quartieri a conoscere meglio le territorialità, quello è molto interessante. Ma anche i luoghi, i musei, i piccoli musei, noi abbiamo adesso... Periferia Artmi, giusto? Sì, il sito è periferiaartmi.it e vediamo per esempio, c'è la week dei musei in questi giorni, proprio oggi è l'ultimo giorno. Ecco, poi abbiamo tanti musei sul territorio che anche chi abita all'intorno non conosce. Ecco, allora è importante far emergere tutta questa realtà che è la ricchezza del territorio della città. Perfetto, Francesco, grazie mille per essere qui con noi. Grazie a Walter, ancora come sempre, anche per gli ospiti che ogni settimana ci porti, molto molto interessanti. Buon lavoro alla Croce Verde Baggio e altri cento di questi anni, va bene. Così che si possa festeggiare, ci ritroveremo qui per festeggiare i duecento anni. Ci diamo appuntamento, va bene. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo come sempre per un prossimo appuntamento di Focus Periferia, sempre qua. Good morning Milano.